Portate fuori tutto il cibo e tutta l'acqua che avete, ve lo consiglio vivamente Perché altrimenti staccherò la testa di questa bambina E anche ai giorni nostri una persona può essere diventata così crudele Imbecilla, hai bisogno di una dimostrazione pratica per credermi, non è vero? Chi è stato di voi? Chi ha avuto l'impudenza di lanciarmi questa pietra? Te ne pentirai! Chi diavolo sei? Mostraci la tua faccia! Vole detto! Dove è cresciandale, eh? Aguai! Finita! Su, avanti, lascia andare quella bambina Certo, la lascerò andare, vedrai, ma prima le darò una strezzatela Aguai! Aguai! Cosa credi di avermi fatto? Io sono un gigante, ci vuole altro Ti spedirò all'inferno ora Sei morto, però ancora non lo sai Ma cosa dici? E' la scuola di Occulto Su, avanti, lascia andare quella bambina Certo, la lascerò andare, vedrai Ma prima le darò una strezzatina Chi è stato di voi? Chi è avuto l'impudenza di lanciarmi questa pietra? Te ne pentirai Chi diavolo sei? Mostraci la tua faccia Maledetto Dove è che ne si andate? Aguai Finita Portate fuori tutto il cibo e tutta l'acqua che avete, ve lo consiglio vivamente Perché altrimenti staccherò la testa di questa bambina E anche ai giorni nostri una persona può essere diventata così crudele Imbecina, hai bisogno di una dimostrazione pratica per credermi Non è vero? O Chau stuff Chau Sì, attacchi! Portate fuori tutto il cibo e tutta l'acqua che avete, ve lo consiglio vivamente. Perché altrimenti staccherò la testa di questa bambina. E anche ai giorni nostri una persona può essere diventata così crudele. Imbecilla, hai bisogno di una dimostrazione pratica per credermi, non è vero? Chi è stato di voi? Chi ha avuto l'impudenza di lanciarmi questa pietra? Te ne pentirai! Chi diavolo sei? Mostraci la tua faccia! Maledetto! Dove è che le si andate, eh? Aguai! Aguai! Finita! Bella bambina! Certo, la lascerò andare, vedrai, ma prima le darò una strezzatela. Chi è stato di voi? Chi ha avuto l'impudenza di lanciarmi questa pietra? Te ne pentirai! Chi diavolo sei? Mostraci la tua faccia! Maledetto! Dove è che le si andate, eh? Sono un gigante, ci vuole altro! Ti spedirò l'inferno, ora! Sei morto, però ancora non lo sai. Ma cosa dici? Eeeh! Tu! Aaaaaah! E' la scuola di Okuto! Su, avanti, lascia andare que... Su, avanti, lascia andare quella bambina. Certo, la lascerò andare, vedrai, ma prima le darò una strezzatela. Certo, la lascerò andare, vedrai, ma prima le darò una strezzatela. Cosa credi di avermi fatto? Io so...